Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, 31 marzo del 2020. Intanto una piccola annotazione, come possiamo dire, di contesto, da uomo semilibero come sono, semilibero perché come tutti voi non lo sono, libero in fondo. Come avete visto ci si abitua facilmente alla perdita delle libertà, si diceva una settimana, 15 giorni, 20 giorni. Adesso i giornali dicono che probabilmente fino a dopo Pasqua e alcuni dicono che fino a maggio l'Italia sarà chiusa. Io penso e voglio che voi ragionate con me, ragioniate con me, su che cosa vuol dire chiudere l'Italia fino a maggio. Vorrei che ci pensaste un attimo, vorrei che leggeste le interviste di questi grandissimi virologi. Oggi ce ne sono per ogni giornale, c'è un virologo che vi spiega per quale motivo non dobbiamo riprendere, dobbiamo continuare a essere chiusi, eccetera. Ve lo dico perché non vorrei sembrarvi irriguardoso nei confronti dell'emergenza sanitaria, ma se noi affidiamo la dittatura ai virologi e ai sanitari e ai medici siamo fottuti, è peggio di quella di Orban. E poi ne parleremo. Piccola considerazione iniziale, però ovviamente è libero ancora il mondo di dissentire, soprattutto per voi. Sì, mi sono fatto la barba, Ilaria, di andarvene via da questa zuppa se non mi piace. Il virus rallenta la corsa. Vedete questo titolo, se non l'avessi già visto altre dieci volte, forse potrei anche condividerlo, però il virus rallenta la corsa, nonostante quello che mi avevano detto i virologi qualche mese fa, quando iniziava la cosa, cioè che i virus dopo un po' scompaiono anche per loro scomparsa, come è successo per la SARS, che non abbiamo curato, che ha ucciso molte meno persone, probabilmente sì, fra due o tre mesi scomparirà il virus. Il punto fondamentale è collegare quello che noi abbiamo fatto e la distruzione che stiamo facendo delle nostre libertà e della nostra economia alla scomparsa del virus. Forse ha effetto, forse no. Fubini oggi ci dice, perché ha una ricerca della Einaudi Institute, che non ci sarà nessun nuovo caso di questo virus tra il 5 e il 16 maggio. E ascoltando quindi i nostri esperti, secondo voi possiamo chiudere fino al 5 e il 16 maggio? L'Italia? Non lo so, io me lo chiedo e ve lo chiedo. Io penso di no. Tra l'altro, apro una parentesi e chiudo un'altra parentesi su questa chiusura. Oggi c'è un pezzo delizioso, delizioso, di Antonio Ruzzo sul giornale. Io lo condivido al 100% e forse voi con un sorriso, quando uscite per fare la spesa o uscite per portare il cane a far pipì, potreste farlo vostro il pezzo di Ruzzo. E cioè, cari agenti, è giusto controllare, ma non trattateci da delinquenti. È chiaro? Io vorrei fare un appello al Sulp, al Siulp e a tutti questi sindacati che dicono di essere amici miei e che si offendono quando gli fai una piccola critica. Cari sindacalisti, mandate un messaggio a tutti quanti i vostri iscritti di poliziotti e mandate il messaggio forse anche al nostro capo della polizia. Non siamo ragazzini, non siamo dei delinquenti, siamo a casa agli arresti domiciliari per un'emergenza che non abbiamo voluto noi, che probabilmente è stata anche gestita malissimo, e quindi se usciamo e ci fate i legittimi controlli, che sono obbligatori, almeno no, non facendoci sentire delinquenti. Vi preghiamo, perché non siamo dei delinquenti. E se uno va a fare la spesa, caro prefetto di Milano, un paio di volte alla settimana, tre volte alla settimana o due volte al giorno perché vuole evadere, non è un delinquente. Chiaro? Signor prefetto di Milano, il cui mio rispetto è sempre Massimo Magnaschi, oggi su Italia Oggi, in realtà però, fa un articolo molto interessante. Italia Oggi è un giornale che ha sempre spunti un po' laterali rispetto agli altri. Dice, attenzione, non prendiamocela soltanto sul Movimento 5 Stelle e dipendenti pubblici, che certamente non hanno inviattato. Ovvio che poi non tutti i 5 Stelle sono uguali e non tutti i dipendenti pubblici. Sileri è diverso rispetto a, come si chiama, Morra. Il dipendente pubblico dell'Inps, che oggi si sta facendo un mazzo così, è un po' diverso rispetto alla genialata di quella struttura che loro hanno costruito negli ultimi tempi. Ci sono migliaia di dipendenti pubblici straordinari, perciò non mettiamoli tutti insieme. Però, dice, ci dobbiamo accorgere Magnaschi che l'Italia era fottuta quando noi abbiamo avuto due terremoti, tre terremoti, e dal 14 agosto non siamo riusciti a combinare nulla. E lì non è colpa tanto dei grillini e di dipendenti pubblici, ma di una capacità della politica italiana di pensare a come lavorare. Sui medici c'è una questione importante che vi segnalo, che sta circolando su Corriere della Sera, ma non solo. Mi sembra che ce l'avesse anche il taglio della verità di oggi. E cioè ci sono delle organizzazioni specializzate nel fare le cause per gli errori dei medici. Si tratta, invece di fare tanto eroi, eroi, controeroi, di fargli monumenti, di fargli le cose retoriche di un'Italia straordinariamente retorica che è brava a dire un sacco di minchiate, bisognerebbe cercare di evitare che in questo momento gli eroi, che li consideriamo dei balconi di eroi, dall'altra gli facciamo causa per errori, quelle cause che comunque ti fanno un mazzo così. Ed è indicato questo urlo di dolore, diciamo, dal Corriere della Sera, sul fatto che l'Ordine dei Medici di Milano si lamenta di queste pubblicità che vengono proprio fatte a beneficio di chi ha un morto, un ferito, un malato, perché faccia causa al medico dell'ospedale. Insomma, cerchiamo di evitare che i medici, oltre a doversi difendere dal virus, si debbano difendere dalle cause in questo momento. Poi voglio dire, non voglio interrompere lo Stato di diritto. Se un medico è un delinquente bisogna punirlo, ma vi sembra che in questa emergenza è questo il tema fondamentale, cioè gli errori dei medici nella gestione del coronavirus messi nelle condizioni in cui si trovano. Apro parentesi e chiudo parentesi. I medici, peraltro, prima vittime di questi virus. Toc toc! Borrelli, capo della protezione civile, e tanti amici scettici che dicevate che non si poteva aprire l'ospedale di Milano perché non c'erano i ventilatori, perché non c'erano le risorse, perché non serviva a nulla. Com'è possibile che dopo 14 giorni, oggi c'è su tutti i giornali, c'è quell'incredibile foto dei primi 25, il primo modulo dell'ospedale di Milano che è pronto per accogliere delle persone. E quante volte abbiamo, e quanti giorni abbiamo perso a dire minchiate, protezioni, richieste, consip, per fare una cosa che Bertolaso è riuscito a fare insieme a Pazzali, il presidente della fiera, dall'ospedale. Quanto tempo abbiamo dovuto perdere per fare quell'ospedale perché questa burocrazia di Roma l'ha bloccato. fantastica l'intervista a Confalonieri oggi che vi segnalo, di Vittorio Maciocci che evidentemente lo conosce bene sul giornale, perché Confalonieri si capisce che è grande Lombardo che ama Milano e lo dice, lo ama, però dice non ce la faccio più, non ce la faccio più vedere Porro, non ce la faccio più vedere quelli che commentano, non ce la faccio vedere più i talk show, non ce la faccio vedere più le zuppe, non ce la faccio più... Io sono a casa che leggo, in realtà lavora pure, e sto leggendo l'Amleto. E ricorda dell'Amleto quella straordinaria frase di Polonio che va nella stanza di Amleto per cercare di capire se è pazzo o non è pazzo e lo vede che sta leggendo un libro e Polonio chiede ad Amleto cosa stai leggendo Amleto? E lui gli risponde parole, parole, parole. Siccome poi Confalonieri prende l'alto e il basso, dice poi a questo si ispirò una grande canzone del mio amico, non mi ricordo chi, un cantautore famosissimo. Però il punto fondamentale è che quello che sente Confalonieri che tutti quanti noi sentiamo è parole, parole, parole in questo momento. E questo lo capisco bene, mentre sull'ospedale di Milano lo stesso Confalonieri dice vedo cose diverse. Su parole, 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 il giornale unico del virus, oggi ve lo devo segnalare, sono arrivati gli 800 euro. Sono arrivati gli 800 euro. Io la trovo straordinaria! La comunicazione unica dei giornali italiani che sono arrivati gli 800 euro. Io vi vorrei soltanto dire che sono passati 14 giorni e ancora non sono arrivati i 600 euro per gli autonomi. Sono passati 14 giorni e abbiamo scoperto che per i professionisti bisogna fare una corsa a ostacoli per avere i 600 euro. Devevano avere meno di 50.000 euro, devono dimostrare che il loro fatturato è decresciuto nei primi tre mesi dell'anno di un terzo, cosa impossibile da dimostrare, una prova diabolica. E quando sono riusciti a dimostrare tutte queste cose, gli iscritti all'albo devono fare una gara per ottenere 200 milioni divise un milione di persone. Quindi ce la faranno soltanto uno su quattro dei professionisti a ottenere il bonus da 600. Tutto il resto del mondo deve fare i conti con l'Inps, che c'è una promessa che avrebbe semplificato tutto, spesso il sito non funziona, perché il 2 più 2 non si riesce a fare. Se un sito verrà ingolfato di persone in questo momento, forse potenziamo il server spendendo miliardi, ma che miliardi, milioni per potenziare il server. E quindi, mentre c'è tutto questo casino, il giornale unico del virus oggi ci dice che sono arrivati gli 800 euro. Falso! Ad aprire gli 800 euro? Come spiega una piccola parentesi che bisogna leggere nel pezzo di Misiani, sottosegretario dell'economia, sapete che dice? Sì, daremo gli 800 euro, ma saranno più selettivi. E' fantastico. Saranno più selettivi. Sapete cosa vuol dire se il vice ministro dice dell'economia che daranno gli 800 euro, che ancora non hanno provato, e che saranno più selettivi, che sarà sempre più complicato ottenerli, sarà sempre più burocratico ottenerli, e sarà come i professionisti, che ci sarà una sorta di click day, o comunque chi arriva prima prende, che sarà una specie di corsa all'oro del Klondike, direbbe Paperone. Quindi, il giornale unico, che non contesta niente, nessuno, e dice che tutto va bene, perché c'è Conte che è un fenomeno, e Casalino è il mito della comunicazione mondiale, insieme a Borrelli, e alla nuova, grande, gigantesco, partito dell'emergenza, il giornale unico, si beve tutto, tutto, anche gli 800 euro, che non hanno ancora provati, e che comunque varranno per una platea di persone, inferiore all'attuale. Ma va bene. Nel frattempo, c'è una testimonianza su Corriere della Sera, ovviamente a pagina 8, taglio basso, ma bellissima, di un piccolo imprenditore, 200 mila euro di fattorato, quindi stiamo parlando di una microimpresa italiana, in Germania, in Baviera, ha detto, ho appena ricevuto 5 mila euro dal governo tedesco, ho compilato una cosa online, è stato facilissimo, mi è arrivato 5 mila euro sul conto corrente, 5 mila euro! Io vorrei sapere! Il giornale unico italiano! Perché questo non lo scrive? Beh, detto questo, il giornale unico italiano, poi in realtà non è così unico, perché continuo a dire che Franco Becchis, sul tempo fa un lavoro eccezionale. Oggi tutti quanti voi dovreste, ve lo dico io, ma avreste potuto leggere l'intervista dell'amministratore delegato delle acceglierie di Terni, 2.500 dipendenti, intervistato oggi da Massimiliano Lenzi, uno dei pochi voci critiche che ci sono, diciamo, nel giornale unico del virus. Allora, cosa dice l'amministratore delegato delle acceglierie di Terni? Ho 2.350 dipendenti, mi hanno impedito di continuare a vivere, a lavorare, nonostante io possa farlo in sicurezza, questo dice lui, mi auguro che sia vero, ma mi devo fidare di quello che dice lui, e sapete che cosa dice? Il resto del mondo, le acceglierie in Europa, come me, funzionano, lavorano, e quindi sapete che vuol dire, dice l'amministratore delegato dell'acceglieria di Terni, che se dovesse perdere il lavoro, quel manager ne troverà un altro, i suoi problemi economici, sono risolti, non per i suoi 2.350 dipendenti, perché se quella acceglieria chiude, il manager non avrà problemi, i dipendenti avranno qualche problemino, ebbene il manager urla, ma come fate a chiudere la mia azienda? Come è possibile? I miei clienti vanno in altre aziende, in Europa, a comprare le stesse cose che io non posso fare, che gli vendevo, siete matti, qua siamo pazzi, io non dico riaprire, è tutto, ma se un'acceglieria sta perdendo, e sta funzionando nel resto dell'Europa, siamo dei pazzi, da una parte non aiutiamo quelli che chiudono, dall'altra facciamo chiudere persone che nel resto d'Europa funzionano, ma tu dici, ma non t'affazzi, ma chi l'ha pensata questa cosa, come facciamo? Nel frattempo, la cassa integrazione, difficoltà a pagarla ai lavoratori, prima della fine di maggio, questo io leggo sui giornali di oggi, quindi altra liquidità che non arriva ai lavoratori, anche se ci sarebbe un incontro, e un accordo tra abbi e sindacati, per dare la cassa integrazione, anche sulla cassa integrazione è fantastica, sapete che cosa fanno? Dicono i dipendenti, vanno in cassa integrazione, ma anticipare i soldi della cassa integrazione dovrebbero essere gli imprenditori, ti viene da piangere, ma veramente ti viene da piangere, nel frattempo, dice il messaggero, è fantastico, questo paese può vincere solo se batte l'enfasi, e ha perfettamente ragione Mario Aiello, poi vedi il titoletto sotto, e cosa c'è scritto? la cura Draghi unica garanzia per la ripartenza, cioè il pezzetto sopra dice basta enfasi, e sotto un pezzo super enfatico sulla cura Draghi, che per carità sarà anche buona, però è l'idea che mi faceva leggere, la lettera di calenda di Gori, di Toti, di Sala e di Bonaccini, sulla fazza è una lettera bellissima, ma durissima, contro l'Olanda, e contro i prestiti che i tedeschi si sono fatti dimezzare nel 1953, non è più una specie di meme su internet, è un memento ai tedeschi, non fate tanto i fenomeni, perché voi quando avevate bisogno, l'Europa c'è stata, oggi farsi comandare da tedeschi che hanno avuto i loro accordi, e olandesi che sono un paradiso fiscale, dicono Calenda e gli altri, è una cosa incredibile, nei firmatari non c'è Salvini, non c'è Orban, non c'è Lameloni, però più o meno dicono le stesse cose per i quali Salvini veniva sfottuto nei mesi precedenti, Salvini è intervistato oggi dal giornale da Sallusti, dice che ci vuole 200 miliardi, 100 miliardi di risorse, Sallusti gli chiede giustamente ma dove li trovi 100 miliardi, lui dice una grande pace fiscale ed edilizia, può essere un'idea. Sulla questione però di Orban, Sallusti dice, Orban prende poteri, i poteri chi glieli dà, prima la notizia gliele dà il Parlamento, di Budapest, perché conferisce a lui, alla seconda votazione, quando la maggioranza era inferiore, mandato a combattere l'emergenza virus con tutti i mezzi possibili e immaginabili, senza una data di scadenza. E Salvini, quando Sallusti chiede a Salvini se è preoccupato, dice, mi preoccupa ciò che avviene a Berlino e a Bruxelles, non a Budapest, dove Orban ha ottenuto dal Parlamento la maggioranza per poter fare quello che deve fare. Verità invece gli contesta, Orban è meglio di Conte, addirittura dice la verità, i pieni poteri, se li fa votare dal Parlamento, mentre quello farebbe, è sottinteso, il DPCM. In realtà, pieni poteri Orban, violati, votati dal Parlamento, senza data scadenza, ma per combattere il virus, il limite di tempo, non possono stabilirlo, perché non sappiamo quanto durerà la pestilenza. Questo è il punto di vista, ovviamente tutti i giornali sono contro questa, diciamo, mancanza di democrazia in Ungheria, ma il punto vero, se posso fare io una piccola chiusa, non è vero che una procedura, soltanto perché votata democraticamente da un Parlamento, come diceva Popper, nella società aperta ai suoi nemici, è necessariamente giusta. E scriveva Popper, nella società aperta ai suoi nemici, se coloro che sono meno alti di sei piedi decidessero di tassare soltanto quelli che sono più alti di sei piedi e che sono una minoranza, farebbero un'operazione forse democraticamente giusta, perché la maggioranza decide per la minoranza, ma sarebbe eticamente sbagliata. Quindi non è la procedura democratica che garantisce che qualcosa sia giusto, non è l'approvazione del Parlamento ugerese alle mosse di Orban che necessariamente le rende corrette, ma il punto fondamentale è che io chiedo e vi chiedo, posto che a me non piacciono i pieni poteri a Orban, ve lo dico veramente fuori dal cuore, così come non piacciono quelli che si è preso senza riconoscimento parlamentare Casalino e Conte, quello che vi dico è, però io vorrei sentire la stessa identica, come possiamo dire, atteggiamento nei confronti per esempio del famoso modello cinese, cioè qua rompiamo le palle a Orban e siamo tutti là che siamo in una spesa garruli sul modello cinese, cioè tra il modello cinese e Orban ci sono almeno dieci sfumature di libertà e di democrazia, ma noi Orban diventa il grande problema, mentre il modello cinese che tutti noi vogliamo adattare è zitti e muti, qualcuno dirà è all'interno dell'Unione Europea, certo è all'interno dell'Unione Europea, ma il suo influenza nei confronti dell'Italia è decisamente inferiore rispetto a quello del modello cinese. Oggi c'è un'intervista al capo della Conad a Gad Lerner, quando io vedo interviste di Gad Lerner, mi cifiondo perché c'è sempre qualche cosa da cui imparare. Beh, insomma, una di queste però non nasce da Lerner, poi c'è anche una da Lerner, poi vedi la schiena dritta di Gad Lerner, e dice Caprotti ha donato dieci milioni, tanto fa la domanda Gad Lerner a Conad che era chiaramente concordata, chiaramente, e il signor Conad, l'amministratore delegato proprietario della Conad, dice, beh sì, Caprotti ha donato dieci milioni, ma ne ha avuto i novecento milioni dall'eredità e se lunga, insomma, è come se io dessi cinquemila euro. Io, io non ho parole, io non ho parole per la mancanza di eleganza di una frase di questo tipo, e poi del fatto che denota proprio l'odio sociale. Caro Pugliese, se Caprotti ha donato dieci milioni, zitto e muto, bravo Caprotti, se lo ha fatto anche Belzebù, bravo Belzebù, ma come ci si permette di dire una cosa di questo? E poi, toc toc, che c'è, che è, non c'è una lira tu? Stiamo a pensare che tu doni cinquemila euro perché stai lì e che vivi sotto i ponti? È una roba disgustosa. Ovviamente, poi, l'intervista di Lerner è un po' come quella che ho sentito ieri fatta a Cairo dalla Cucciari e Socio, dovevate vedere l'intervista schiena dritta, eh, so che tu, si davano del tubo, è stupenda, ma questo, vabbè, lasciamola perdere perché non fa parte, perché noi giornalisti siamo sempre dei fenomeni con i nostri editori, io con Berlusconi, loro con Cairo, evidentemente che non è a un certo punto gliela devo fare questa domanda, cavolo che ti aspetti da Lerner? Eh, gliela devo fare e anche voi avete lavoro sottopagato, interinari e precari. Ovviamente non risponde, ovviamente Pugliese non risponde, così come non risponde al fatto che ci siano, non so, cinquemila, semila licenziati dalla sua fusione con Oshon, mi sembra che sia Ocarfuro, adesso non mi ricordo chi cavolo sia, insomma, il grande gruppo che loro comprano. voglio dire, fa parte di quella roba lì che succede nell'economia capitalistica, la stessa che odia Lerner e che io apprezzo, però al suo amichetto pugliese quando licenzia le persone non glielo chiede e si fa dare una risposta che darebbe mio figlio alla sua amichetta di banco, cioè inesistente su questa vicenda, stupendo. L'ultima questione riguarda Travaglio, perché ormai Travaglio io sono affascinato, Travaglio non scrive più, Travaglio vi è comunico che non scrive più, prende un pezzo del giorno precedente fatto da un giornale e lo attacca uccidendo chi scrive il pezzo, l'ha fatto con Sallusti, l'ha fatto con Feltri, lo fa con questo Iacoboni della stampa, cioè lui non scrive più pezzi, lui fa dei killeraggi del Carter Assassination. Oggi lo fa nei confronti di Sala che è stato intervistato dalla stampa e che si è permesso di dire qualche cosa che non gli piace. Vorrei chiudere con voi con un pezzo del quotidiano nazionale che è il pezzo che io mi sono letto con maggiore godimento, anche se per sorridere un po' in questa nostra stagione di chiusure di arresti domiciliari è la storia di Rama X. E chi è? Il re tailandese è chiuso in una stazione scistica tedesca, potrebbe stare in Italia, starebbe molto meglio, a Garmisch ed è chiuso lì con la quarta moglie e le 20 concubine ed è una storia incredibile. Cioè il re tailandese che è chiuso in una stazione scistica con 20 concubine sulle Alpi tedesche. L'unica cosa che mi chiedo è per quale diavolo di motivo di tutti i posti al mondo che doveva andare proprio sulle Alpi tedesche il re tailandese. Io che amo tanto la Tailandia gli consiglierei di andare in posti insomma diciamo in quell'altro arco alpino quello franco svizio italiano che è decisamente più bello. Vabbè ma io non ne ho emozionato più manco il falco travaglio benissimo vi do appuntamento come sempre al sito nicolaporro.it e per tutte le altre novità di giornata. Ciao